La festa ebraica di Purim commemora come gli ebrei di Persia furono salvati dal malvagio Aman, il braccio destro del re, che stava progettando di ucciderli tutti, secondo il libro biblico di Esther. Ci viene ingiunto di commemorare questo giorno festeggiando e rallegrandosi, scambiando doni di cibo, fare doni in beneficenza, leggendo il rotolo di Esther e fare molto rumore ogni qualvolta viene pronunciato il nome del malvagio Aman. Ma perché Aman decise di uccidere tutti gli ebrei? Il libro di Esther ci dice che Mordechai si rifiutò di inchinarsi davanti a lui e che questo lo offese. Questo porta alla domanda Mordechai ha agito correttamente, mettendo così in pericolo tutti gli ebrei? Forse vi è stato detto, sì, ha agito correttamente secondo la sua religione, perché gli ebrei si inchinano solo a Dio. Questo è ciò che a volte diciamo ai nostri figli. Ma è falso. È permesso inchinarsi alle persone come gesto di rispetto, onore, amore, paura? Ecco alcuni esempi direttamente dalla Bibbia. Il libro della Genesi dice che Abramo si inchinò ai suoi ospiti, cito, ed egli alzò gli occhi e vide, ed ecco tre uomini stavano in piedi accanto a lui, ed egli vide e corse verso di loro dall'ingresso della tenda e si prostrò a terra. Il libro della Genesi dice anche che Abramo si inchinò alle persone da cui stava acquistando un luogo di sepoltura, sepoltura per la sua moglie Sara. E Abramo si alzò e si inchinò al popolo del paese, agli Ittiti. Il libro della Genesi dice anche che Giacobbe si inchinò sette volte a suo fratello Esaù, cito, e Giacobbe si prostrò a terra sette volte, finché non si avvicinò a suo fratello. Allora vennero le serve con i loro figli e si prostrarono. Poi venne Elia con i suoi figli e si prostrarono. Allora Giuseppe venne con Rachele e si prostrarono. Il libro della Genesi dice anche che i fratelli di Giuseppe si inchinarono a lui, cito, ora Giuseppe era il governatore del paese e i fratelli di Giuseppe vennero e si prostrarono a lui, con la faccia a terra. Il libro dell'Esodo dice che Mosè si inchinò a suo suocero, cito, allora Mosè uscì verso Jethro, si prostrò e lo baciò. Il libro dei re dice che il profeta Natan si inchinò al re David, cito, quando il profeta Natan venne davanti al re, si prostrò davanti al re con la faccia a terra. Evidentemente, quindi gli ebrei non si inchinano solo a Dio. Quindi qual è la legge sull'inchino? È semplicemente questa. Un ebreo non può inchinarsi davanti a un idolo. La legge ebraica vieta di praticare l'idolatria anche per salvare una vita. Ora, il Midrash spiega che Aman indossava un idolo. Cito, è scritto, ma Mordechai non si inchinò e non si prostrò davanti a Haman. Mordechai era forse un piantagrane che ha gratuitamente disobbedito al comando del re? No. Il fatto è che quando il re Ahasverosh ordinò che tutti si inchinassero a Haman, Haman incise un idolo sul suo petto per far sì che tutti si inchinassero a un idolo. Quando Haman disse che Mordechai non si postrava davanti ad esso, fu pieno di ira. Mordechai gli disse, c'è un maestro che è esaltato sopra tutti coloro che sono esaltati. Come posso abbandonarlo e inchinarmi davanti a un idolo? Inoltre, Haman credeva di essere un Dio. Il Talmud ci dice, il malvagio Haman si ergeva come oggetto di adorazione. Questo è il motivo per cui Mordechai si rifiutò di inchinarsi a Haman. Il Midrash aggiunge che Haman discusse della questione del suo essere un Dio con Mordechai. Cosa disse Mordechai a coloro che gli chiedevano perché avrebbe trasgredito l'ordine del re di inchinarsi davanti a Haman? Rabbi Levi ha detto loro, il nostro maestro Mosè ci ha ammonito nella Torah dicendo, maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o fusa. E questo disgraziato si erge a divinità. Amman rispose, il tuo antenato Giacobbe non si è forse prostrato davanti al mio antenato Esau? Mordechai rispose, il mio antenato, Beniamino, non era ancora nato. Amman discende davvero da Esau. La Meghillah dice che Amman era un Agagita, cioè un discendente del re Agag di Amalek e Amalek era il nipote di Esau. In secondo luogo, Mordechai era un Beniaminita e fece notare a Amman che quando la Torah dice che Giacobbe, le sue quattro mogli e tutti i suoi figli si inchinarono davanti ad Esau, mancava un figlio, il suo antenato Beniamino, che non era ancora nato. D'altra parte, alcuni rabbini del Talmud sostengono che la flessibilità a volte è la cosa migliore. Cito. Abbaieh ha detto, la Torah ci ha insegnato, non farai per te alcuna immagine scolpita, non ti postrerai davanti a loro e non li servirai. Non puoi inchinarsi davanti alle immagini, ma puoi inchinarsi davanti a un essere umano come te. Si potrebbe pensare che questo valga anche per un essere umano che è adorato, come Amman. Rava, invece, lo spiega così. Come Amman, ma non del tutto. Inchinarsi a uno come Amman è proibito, poiché si è eretto come una divinità. Ma non del tutto, poiché Amman era adorato attraverso la paura, mentre il divieto nella Torah si applica solo a un'azione volontaria. Un argomento intelligente. Se l'adorazione di un essere umano è dovuta alla paura e non volontaria, non conta come idolatria. Eppure lo stesso Talmud ci ingiunge di sacrificare le nostre vite piuttosto che impegnarci nell'idolatria. Questo è invalida, forse, questo argomento? Sforno, commentatore italiano del XVI secolo, scrisse che se gli Zeloti che difendevano il Secondo Tempio contro i Romani avessero ingoiato il loro orgoglio e avessero seguito l'esempio di Giacobbe, il Tempio non sarebbe stato distrutto. Infatti il Talmud dice, cito, i rabbini dissero ai Zeloti, usciamo e facciamo la pace con i Romani. Non lo permisero, ma al contrario dissero, usciamo e combattiamoli. I rabbini dissero, non riuscirete. Un'altra opinione è che Mordechai mostrò una profonda comprensione delle vie di Dio. Amman cerca di convincere il re a permettergli di uccidere tutti gli ebrei. Il re è scettico, perché gli ebrei sono protetti da Dio. Il Midrash dice, re Shlachish disse, quando il malvagio Amman disse al re Ahasverosh, andiamo, sterminiamo Israele, Ahasverosh rispose, non puoi prevalere contro di loro, poiché il loro Dio non li abbandonerà del tutto. Guarda cosa ha fatto ai re che ci hanno preceduto e che hanno imposto loro le mani e che erano molto più potenti di noi. Chi viene contro di loro per distruggerli e chi trama contro di loro viene spazzato via. Quanto più allora noi che non siamo uguali a quegli altri. Non voglio più sentire parlare di questo. Quindi Amman ragiona. Se riesco a convincere Israele a peccare, Dio li abbandonerà e io potrei ucciderli impuremente. Il Midrash continua, cito. Amman disse a Ahasverosh, il Dio di questi uomini odia la dissolutezza. Organizzate loro un banchetto con delle prostitute e ordinate loro di venire tutti a mangiare, bere e fare ciò che vogliono. Quando Mordechai vide questo, si alzò e disse, Non andate a partecipare alla festa di Ahasverosh, poiché vi ha invitato solo per preparare la scena per sporgere denuncia contro di voi, in modo che l'attributo di giustizia abbia una scusa per accusarvi davanti al Santo Benedetto sia Lui. Ma non ascoltarono Mordechai e andarono tutti alla festa. Rabbi Ismaele ha detto 18.500 ebrei sono andati al banchetto e hanno mangiato e bevuto e si sono ubriacati e si sono comportati male. Quindi Mordechai conclude che, a causa di questo peccato, Dio permetterà lo sterminio come punizione, a meno che gli ebrei non si pentano sinceramente. Quindi accelera gli eventi rifiutando di inchinarsi a Aman e il re firma il decreto per fare uccidere tutti gli ebrei, cosa che avrebbe fatto comunque. Gli ebrei rispondono con disperazione e pensimento. Cito E in ogni provincia c'era grande lutto tra gli ebrei e digiuni, pianti e lamenti, e molti giacevano coperti di sacco e di cenere. Così gli ebrei si pensierono del loro comportamento. Questo era il piano di Mordechai e questo è ciò che salvò gli ebrei. A quanto pare la storia è molto più complicata di quando sembri. Quindi, inchinarsi o non inchinarsi? Riflettete bene e seriamente. Siate flessibili e considerate le probabili implicazioni. Hak Purim Saber